Sarà una Juventus apparentemente fortissima anche per quanto riguarda alcuni acquisti, anche per quanto riguarda alcuni calciatori, quella che sarà guidata a partire dal prossimo 10 luglio con il ritiro precampionato da Thiago Motta. Douglas Luiz è un nuovo giocatore della Juventus, diciamolo e ribadiamolo, ogni giorno gli aggiornamenti vanno sempre più in quella direzione, convergono sempre di più verso l'affare fatto e infatti manca pochissimo. Poi ci sarà anche l'ufficialità, pochissimo in termini di dettagli, soprattutto per quanto riguarda la posizione di McKennie. Ealing Junior e Weston McKennie infatti sono le parziali contropartite tra Juventus e Aston Villa per il passaggio del centrocampista brasiliano, fortissimo centrocampista brasiliano per quello che ha mostrato fin qui in carriera, in bianconero. Ed è una carriera che può ancora sbocciare perché ha 26 anni quindi entra nel prime e può rappresentare veramente una svolta per il calcio della Juventus con Thiago Motta ma anche per il calcio in Serie A. Rischia di diventare infatti il calciatore più forte della prossima Serie A e sicuramente entra già sul podio nelle aspettative. Poi bisognerà vedere quale sarà l'entità del conguaglio economico dalla Juventus all'Aston Villa e di conseguenza il costo complessivo dell'operazione a bilancio con anche plusvalenze importanti, assolutamente regolari, su Ealing Junior che sarebbe andato a scadenza l'anno prossimo e su Weston McKennie che evidentemente non piace a Thiago Motta e sicuramente non è mai stato un giocatore imprescindibile. Poi si lavorerà su Copminers che purtroppo ha saltato l'Europeo ma purtroppo per l'Atalanta perché giocando l'Europeo la sua valutazione sarebbe potuta crescere e invece così rimane stabile a quello di straordinario che ha fatto fino a questa stagione con Gasperini. L'infortunio tra l'altro è cosa lieve e quindi si sta lavorando anche su quel tavolo in maniera più rallentata perché prima bisogna chiudere Douglas Luiz e in realtà le contropartite con l'Atalanta potevano essere parzialmente le stesse. Si era parlato anche di Sule, Sule che però sarà destinato probabilmente ad una cessione in Premier League in un'operazione isolata che porterà nelle casse della Juventus almeno 40 milioni come da richiesta e poi dopo questi due centrocampisti si andrà su Calafiori. Riccardo Calafiori che è esordito nell'Europeo alla grande con una prestazione sontuosa a parte un paio di sbavature ma veramente una prestazione di grande padronanza come lui ci è abituati a vedere ma anche con la maglia della Nazionale anche nell'esordio a titolare ad un Europeo. Ricordiamo che il Calafiori è solo la terza gara, terza presenza con la Nazionale Maggiore per quanto riguarda il difensore del Bologna riguardo al quale l'amministratore delegato Rosso Blu Fenucci ha detto non si sposta, in realtà il Bologna ha una richiesta precisa quindi è comunque sul mercato, si parla di 40 milioni ma fondamentalmente perché il Bologna è tenuto a versare il 50% sulla futura rivendita nelle casse del Basilea da cui l'ha acquistato per pochi milioni e per ancora meno milioni il Basilea l'aveva prelevato dalla Roma l'anno precedente quindi un giocatore scaricato purtroppo dalla Roma, dal calcio italiano e dalla Serie A e passando per la Svizzera ritorna in Serie A ma soprattutto va da Tiago Motta che lo valorizza alla grande. E allora per Cope Miners dovrebbe trattarsi di una operazione con parziale scambio di giocatori, stessa cosa per Douglas Luiz, mentre per Calafiori potrebbe trattarsi anche di un'operazione in prestito con riscatto successivo per alleggerire il peso a bilancio del calciomercato in questo impatto immediato e dilazionare evidentemente le spese pur mantenendo sostanzialmente le stesse cifre nel rispetto del Bologna che ha questa clausola con il Basilea. Nel frattempo Di Gregorio operazione già chiusa addirittura a maggio, 20 milioni compresi bonus ci sarà tra non molto l'ufficialità ma tanto ormai con l'inizio dell'Europeo si andrà tranquillamente oltre il primo luglio quindi quando il calciomercato sarà formalmente aperto e poi c'è un altro Di che dovrebbe arrivare alla Juventus cioè Di Lorenzo, autore anche lui di una buonissima prestazione nell'esordio contro l'Albania ma è un giocatore che conosciamo molto bene è un terzino che ha grande propositività quindi è un giocatore quasi mai conservatore nelle giocate, è sempre un costruttore di gioco, un giocatore che propone calcio in avanti poi ovviamente si tratta di un 31enne ci sono e ci sarebbero tantissimi altri terzini destri da poter prendere di cui comunque la Juventus ha necessità al netto dell'eventuale addio di Danilo e purtroppo per Di Lorenzo si parla anche di cifre piuttosto elevate anche superiori a 15 milioni che per il profilo del calciatore sarebbero tanti ma rimanendo sulla fascia in particolare destra c'è un altro nome che sta scuotendo e creando entusiasmo nei tifosi della Juventus in queste ore ed è quello di Jadon Sancho Jadon Sancho potrebbe essere un nuovo calciatore della Juventus l'esterno fortissimo da sempre, da tanti anni anche se con ovviamente alterne vicende di proprietà del Manchester United in prestito questa stagione al Borussia Dortmund partecipe anche della finale di Champions League persa contro il Real Madrid è veramente un oggetto di interesse della Juventus che sta lavorando anche su questo tavolo in Inghilterra chissà da quanto tempo con la notizia che è emersa solo negli ultimi giorni anche in questo caso si parla di un potenziale prestito con diritto obbligo di riscatto successivamente per abbassare i volumi di uscite ma anche non solo per quanto riguarda la cassa soprattutto per quanto riguarda i costi già da caricare su questo bilancio un bilancio che comunque beneficerà di grossi ricavi da parte della UEFA per la Champions League e di grossi ricavi da parte della FIFA per il Mondiale per club ma il resto bisognerà ancora farlo grossi ricavi anche per quanto riguarda le cessioni abbiamo detto ma già Don Sancho sarebbe veramente forse lui l'acquisto più importante della Juventus in questo mercato ma tra lui, Cobb Miners, Douglas Luiz e Calafiori si fa fatica veramente a trovare quale sia l'acquisto migliore al netto di un Federico Chiesa che ha esordito benissimo anche lui a Euro 2024 giocando finalmente a destra la casella che potrebbe essere ricoperta avrebbe potuto essere ricoperta da Sule il quale appunto dovrebbe uscire in realtà la Juventus starebbe anche benissimo con Chiesa e Sule tenendo Vlaovic, tenendo Ildiz puntando anche ad un altro attaccante centrale che non sia soltanto Milik nella cessione intanto di Ken nel momento in cui viene ceduto Ken ma evidentemente si è fatta la scelta di far andare via soprattutto Chiesa perché ha un contratto di scadenza l'anno prossimo e ha mercato e lo si saluterà senza grossi rimpianti se non quello che è stato rovinato anche lui in questi tre anni e chissà, questo ce ne accorgeremo, ma non è un problema della Juventus attuale è stato un problema della Juventus degli ultimi tre anni è un problema anche un danno per il calcio italiano mentre per quanto riguarda Sule anche lui ha mercato e quindi si preferisce andarlo a vendere per prendere poi un sostituto comunque un pochino più esperto un pochino più esperto ma comunque giovane come appunto Giadon Sancho è chiaro che qui il discorso si fa discutibile ci sono molti tifosi che vorrebbero trattenere Chiesa che vorrebbero trattenere Sule soprattutto che non vorrebbero quindi fare questo cambiamento si era parlato in accostamento anche di Edon Gegrova ancora più giovane che forse in questo senso avrebbe ancora meno meno raziocinio proprio perché se hai Sule ti tieni Sule e non vai a prendere Gegrova ma comunque fatto stare che la Juventus sta facendo evidentemente questa scelta di prendere anche un altro esterno chissà che magari Sule non possa restare insieme a Giadon Sancho perché c'è bisogno anche di andare a rinfoltire determinate caselle tattiche per una stagione che sarà veramente molto intensa e ricca di impegni una Juventus che quindi si presenta fortissima per quanto riguarda determinati acquisti in attesa anche di valutare altri scenari per esempio Rabiot che per ora non ha accettato l'offerta della Juventus ed è entrato nell'europeo senza un contratto il che fa pensare che non resterà alla Juve e che sta valutando altre offerte sta prendendo tempo poi ci sarebbe anche da valutare Locatelli perché potrebbe non essere più titolare soprattutto con il ritorno di Fagioli ma la domanda a questo punto da parte di qualcuno è ma se ci sono tutti questi acquisti allora era vero che la Juventus non aveva una rosa forte e capovolgendola se la Juventus aveva una rosa forte perché si va così tanto sul mercato? beh la risposta è semplice perché la rosa della Juventus era fortissima ed è fortissima per il campionato di Serie A senza la Champions o senza grosse aspettative per l'Europa e senza neanche l'aspettativa di essere tutti gli anni in lotta per lo scudetto ma comunque con l'impegno di poterlo essere ma parliamo di una valutazione sulle rosa della Juventus tarata sulla scorsa stagione ora è un'altra stagione i contratti si sono accorciati di un anno c'è un nuovo allenatore con un nuovo modo di giocare un nuovo progetto tecnico ci sono degli scontenti anche da soddisfare e quindi qualcuno deve andare via ci sono delle opportunità di mercato e quindi una rosa già forte la si va a rinforzare ancora di più il fatto che si faccia finalmente un po' più di mercato anzi che si torni a fare un po' più di mercato dopo l'estate scorsa quando di mercato se n'è fatto poco è semplicemente una situazione che va in accordo con il nuovo progetto con il nuovo allenatore e con un rafforzamento necessario per i tanti impegni e per il livello di questi impegni d'altra parte non è che si può dire che in precedenza non sia stato fatto mai mercato per la Juventus anzi se c'è una rosa forte proprio perché è stato preso Vlaovic a 90 milioni Chiesa a 60 milioni Locatelli a 40 milioni Bremer a 50 milioni e poi ancora Paredes Di Maria Pogba che comunque sarebbe stato un top anche se non era più in condizioni fisiche anche prima dell'infortunio al ginocchio di tutto il resto e poi comunque anche Milik, Kostic tanti veramente acquisti di questi anni che sono andati tendenzialmente a rafforzare una Juventus che è sempre stata ed è sempre rimasta forte al netto però di una gestione tecnica discutibile e anzi distruttiva la nuova Juventus di Tiago Motta riparte da Tiago Motta attraverso Giuntoli e il suo staff ma anche da una serie di calciatori che stanno già facendo impazzire il popolo bianconero poi ovviamente ci saranno gli allenamenti ci sarà il campo e quindi dal calcio mercato al calcio giocato